Giulia Delellis racconta la sua vita in lacrime, rivelazioni inaspettate Grande fratello Vip, Giulia Delellis in lacrime, la storia della sua famiglia e della sua vita. Seppur molto giovane, Giulia Delellis ha mostrato più volte di essere una ragazza con la testa sulle spalle. La concorrente del grande fratello Vip ha infatti dimostrato di essere una persona sincera. In ogni caso, le critiche non mancano mai. D'altronde, ogni personaggio dello spettacolo è soggetto a pareri discordanti tra loro. Questa settimana, la fidanzata di Andrea Damante è in nominazione così, gli autori del reality show le hanno dato l'opportunità di farsi conoscere più approfonditamente. Con un grafico disegnato da lei stessa, l'ex corteggiatrice ha raccontato la storia della sua vita dal 1996, anno in cui è nata, ad oggi. A quanto pare, Giulia ha alle spalle una situazione familiare non del tutto piacevole. Già alcune settimane fa, la ragazza ha parlato dei problemi che ha avuto con la sua famiglia, ma ora è tornata ad affrontare tale situazione raccontandone ogni minimo particolare. . Giulia Delellis racconta la sua vita al grande fratello Vip, lacrime amare di gioia. Giulia Delellis ha vissuto un'infanzia molto felice, fino a quando nel 2009 la sua vita ha avuto un drastico cambiamento. . I suoi genitori si sono lasciati e lei si è trovata a vivere cose che, secondo lei stessa, i bambini non dovrebbero neanche lontanamente conoscere. . Dopo la separazione dei suoi, la fidanzata di Damante ha chiuso ogni tipo di rapporto con suo padre. . Un anno dopo, la sua famiglia si è riunita. . Di fronte alla pace tra sua mamma e suo papà, invece di essere felice, Giulia ha iniziato a stare sempre più male e così è andata via di casa, trasferendosi da sua nonna. . Per molto tempo, la Delellis si è rifiutata di parlare dei problemi che aveva con i suoi genitori, fino a quando non è tornata da loro una volta finite le scuole superiori. . Nei tre anni precedenti, però, l'ex corteggiatrice non ha mai voluto rivolgere la parola a suo padre. . Grande fratello Vip, Giulia Delellis commuove tutti, il rapporto con il papà. . Una volta tornata a casa sua, Giulia ha iniziato pian piano a ricucire i rapporti con i suoi genitori e soprattutto con suo fratello. . Ad oggi, la concorrente del grande fratello Vip ha dichiarato di avere un bellissimo rapporto con suo papà. . È l'uomo della sua vita, un padre, un fratello ed un amico. . Se pensa al passato e alle scelte fatte, la giovane Delellis rifarebbe tutto, l'unico rimpianto è quello di non aver potuto vivere a pieno il legame con suo fratello. . 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